nel 1986 per l'Umbria è accaduto qualcosa di straordinario per te anche ma per l'Umbria pure sì sì proprio siamo con un buc circolo qui mancano pochi metri d'arrivo e quindi ormai si assaporava proprio questa vittoria anche se per un maratoneta finché non si taglia traguardo non si è mai sicuro di nulla io sono bresciano ma ho corso indossando una maglia molto molto particolare con uno sponsor Umbro di Perugia l'LS una grande azienda di abbigliamento sportivo che ha seguito per tanti anni lo sci il tennis e poi si è buttata nel running con l'avvocato Gustenghi che Gabriele Gustenghi che ha voluto inserire questa disciplina anticipando un po' anche i tempi qui a New York si correva già tantissimo in Italia un po' meno e lui aveva capito che il running sarebbe sicuramente sbocciato alla grande così è stato aveva formato anche l'LS running club nelle diverse città è stata una grandissima esperienza poi l'LS è stata assorbita da un gruppo americano e il running è andato alla faccia degli americani è andato da un'altra parte si può dire che grazie all'impegno di George Irish che ha fondato la maratona di New York e grazie al lavoro di questa famiglia di questa azienda in Italia è nata una cultura e anche in Umbria? ma io vorrei ricordare soprattutto Fred Lebo che con Alan Stamford e George Irish che hanno veramente creato un qualcosa una cultura legata al movimento che in quegli anni sbocciava come jogging e adesso si parla di running in Italia come dicevo non era negli anni 80 così vedere gente correre era difficile oggi ovunque vai anche in Italia si corre la gente ha capito che il movimento fa bene fa bene fisicamente ma soprattutto fa bene a se stessi rende le persone sempre più serene noi in questo mondo un po' complicato abbiamo bisogno di tante tante persone serene cosa hai pensato? la prima cosa che hai pensato appena tagliato il traguardo a New York? ho pensato che avevo combinato una grande impresa perché da anni viaggiavo sulle più grandi maratone dove incontravo i più forti e non ero mai riuscito a vincere anche se mi piazzavo le spalle di questi grandissimi campioni e quel giorno mi sono proprio detto oggi Gianni l'hai combinata grossa l'ho combinata grossa per me per il mio gruppo per il mio allenatore il dottor Rosa che ha sempre creduto nelle qualità e soprattutto per uno sponsor che ha investito molto su di me diciamo come testimonia come dicevo prima di questo gruppo che era anche sponsor tecnico della maratona una cosa un abbinamento molto molto importante e una gioia indescrivibile che porta ancora nel cuore naturalmente